Noi siamo molto contenti, anzi ci togliamo anche gli occhiali per vederla meglio Marianna Big Mama, benvenuta a Radio Bruno Grazie, poi mi spieghi perché mi vedi meglio senza occhiali È un problema di diottorie Sarà quello Senti allora, una canzone fortissima, una canzone bellissima, ce la vuoi raccontare? Grazie innanzitutto, ma ci tenevo tantissimo a scrivere un pezzo che parlasse di me Una sorta di coccola che ho fatto alla mia bambina Coccola che non mi ha mai fatto nessuno effettivamente, quindi ci ho pensato da sola E sono felicissima di portare un messaggio del genere su un palco così grande E credere nei propri sogni, sul palco dei sogni È tutta una bellissima coincidenza, spero arrivi E tu ci hai sempre creduto nei tuoi sogni E soprattutto hai sempre creduto nei sogni delle donne Sì, per me è prioritario Parlare in quanto donna Soprattutto nell'industria musicale, ma in realtà è un po' il mondo, sappiamo benissimo come gira Però nell'industria musicale farsi spazio in quanto donna non è sempre facilissimo E per me è proprio fondamentale mettere la mia figura di donna al primo posto Rap, pop, trap, insomma sono tutte forme di comunicazione che a persone come te permettono di mandare dei messaggi importanti Sì, ma la musica in generale in realtà serve a mandare messaggi importanti Poi c'è chi lo fa in maniera più diretta, più spudorata, più tagliente Chi invece utilizza parole un po' più dolci, però è proprio la missione della musica quella E in questi anni, anche qui a Sanremo nella dimostrazione, la musica partono per tu, sei di Avellino La musica comunque di Napoli sta avendo grandissimo successo Perché secondo te? Beh, speriamo sicuramente Questo è stato un po' l'anno della campagna È stata un po' la vittoria della nostra regione E meno male, direi Siamo bravi, abbiamo proprio la musica nel sangue ed è giusto che questa cosa esca Tu sapevi che all'inizio il festival di Sanremo era nato come festival della musica partenopea E poi invece si è trasformato in festival della musica italiana? Davvero Se leggi un po' la storia questa è... E quindi diciamo che dopo 74 anni con tantissimi amici che hai sul palco Si può parlare anche di tanta partenopenità, giusto? Si dice così? Penso di sì Penso di sì Senti, alla bambina che hai dentro un consiglio per togliere la rabbia Oggi siamo tutti molto arrabbiati A volte anche non sappiamo perché siamo arrabbiati Ci svegliamo e siamo arrabbiati Hai un'idea, un consiglio, una medicina, qualcosa per togliere la rabbia? Ma sfogarsi penso sia la cura migliore Io l'ho fatto nella mia vita con la scrittura e con la musica in generale Però penso che ognuno possa trovare la propria chiave Per andare a sfocare questa rabbia che è sempre un po' tossica Non fa mai davvero bene C'è la rabbia giustificata perché anche la rabbia è una bellissima emozione che va tutelata In quanto tale però Diciamo ci sono dei livelli da non superare Quando si superano quei livelli poi vai nel marcio Cosa ti fa arrabbiare a te di solito? Ma le critiche che non hanno senso Cioè sai quando uno ti vuole criticare ma non c'è davvero un consiglio sotto Solo per il gusto di farlo È una cosa che non mi è mai piaciuta Che continua ovviamente ad accadermi Ma non ne capisco proprio la motivazione Purtroppo la cattiveria io non la comprendo L'anno scorso eri sul palco nella serata dei duetti con Nelodie Quest'anno sei tu la protagonista dei duetti Ce lo racconti? Allora l'anno scorso diciamo che la situazione era molto più facile Perché dovevo portare sicuramente sul palco qualcosa che faccio ormai col pilota automatico Che è reppare Salgo, mi faccio i miei 40 secondi di reppata Le mie barre scendo e sono felice Quest'anno la responsabilità è tutta un'altra Oltre il pezzo che è comunque molto più difficile a livello canoro Ma ho un messaggio da portare Un chiaro messaggio da portare Lo faccio per tante sere di fila Quindi diciamo la responsabilità è sicuramente diversa Sono felice che io abbia comunque preso un po' di carica l'anno scorso Perché l'esibizione dell'anno scorso mi ha aiutata Bene, allora ci reppi un po' qualcosa con Radio Bruno? Mi dovresti pagare, quindi no Benissimo Allora noi lo facciamo subito Abbiamo qua 100 euro Mi sposto dalle telecamere Te le allungo, ti do 100 euro Penso che bastino Questi sono falsi, non fai fesso nessuno Eccoci qua Big Mama da Radio Bruno Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti